della questione latte e delle difficoltà di molti allevatori costretti a chiudere le stalle per il prezzo troppo basso che le multinazionali e le cooperative pagano. Per molti produttori il prezzo è sceso da 34 centesimi al litro fino a 26 centesimi. Una situazione insostenibile che non copre i costi e che offende la qualità del latte italiano. Importiamo latte in polvere dai paesi europei.